Il sospetto di una malformazione, la diagnosi prenatale per curare, l'intervento ai polmoni a 24 ore dalla nascita, così a Siena un bimbo ha avuto salva la vita che continua a battere nel petto. Una circolare beffa dell'Inps gela migliaia di famiglie di pensionati con invalidi, se il reddito di coppie supera 16.000 euro scompare l'indennità, vibranti proteste dalle associazioni e dai sindacali. Scoppia il caso delle liste civetta che copiano nomi e simboli di Monti e Grillo e intanto Berlusconi, reduce dal test Santoro, critica il professore su cui piovono anche gli strali di Bersani. Operai sulla torre a 20 metri da terra, lavoratori che si calano nel sottosuolo per protesta, nell'avvertenza dell'Alcoa di Portovesme in Sardegna entra la tutela anche dei lavoratori esterni. Una grande attrice che ha lottato con forza contro il male che spegne la vita lentamente, Mariangela Melato ci ha lasciato, ma è vivo il suo esempio di vita e la storia di interprete onorata da grandi registi. Buonasera da TG2000. Eccoci qua, buonasera a tutti voi. Apriamo dunque questa sera il nostro telegiornale con una bellissima storia che arriva da Siena dove la diagnosi prenatale a fine di cura salva un neonato con una malformazione ai polmoni. Ma ci racconta tutto Beatrice Vergari, sentiamo. È nato da appena 15 giorni ed ha già vissuto due vite, una segnata da una grave malformazione al polmone che non gli avrebbe lasciato scampo, la seconda piena di speranza iniziata con un intervento chirurgico molto complesso realizzato da un'equip di medici del Policlinico Santa Maria delle Scotte di Siena. Un perfetto mix tra diagnosi prenatale, chirurgia pediatrica e assistenza postnatale. La diagnosi prenatale è fondamentale. È fondamentale perché permette di ottimizzare quella che è una condotta clinica finalizzata alla scelta ottimale del momento del parto. Direi un intervento abbastanza complesso anche perché viene fatto in un neonato che ha dei problemi di tipo respiratorio, per cui in condizioni non ideali in un neonato che ancora si deve adattare alla vita esterna. È quello che è successo in questo bambino. Il piccolo, nato il 27 dicembre con un parto programmato da una famiglia senese, ora respira autonomamente, mangia e tra poco potrà tornare a casa con i suoi genitori. Avrà una vita sovrapponibile a quella degli altri bambini, potrà essere tranquillamente considerata come un bambino normale. La famiglia quando si è sentita seguita, quando ha sentito l'apporto della struttura e in questo senso, parliamo anche una volta tanto di buona sanità, si è sentita tranquilla, rassicurata dalle varie persone in un momento molto difficile per la loro vita e per le resistenze del loro bambino e quindi indirettamente per le loro esistenze. Una circolare Beffa Sara sta mettendo a rischio 85.000 pensioni di invalidità, davvero un numero incredibile. È rivolta alla circolare, la protesta è rivolta contro la decisione dell'Inps di calcolare per l'erogazione il reddito di moglie e marito, redditi che vanno sommati. Ci spiega tutto Pierluigi Vito. Un'inaccettabile iniquità ha suscitato lo sdegno di sindacati e associazioni la circolare Inps 149 del 2012, l'ultima dell'anno passato, entrata in vigore dal primo gennaio. Un testo che prevede che l'erogazione dell'assegno di 257 euro, destinata agli invalidi civili al 100%, sia vincolato non più al solo reddito dell'avente diritto, ma anche al reddito del coniuge. Per cui, se marito e moglie, insieme, guadagnano più di 16.127 euro lordi all'anno, ovvero 1.344 euro al mese, lordi ribadiamo, allora niente pensione. Ma attenzione, questo vale solo per l'invalidità totale. Per un invalido, poniamo all'80, al 60, al 50%, non cambia nulla. Questa bislacca riforma affonda le sue radici in una legge incompleta del 1980, che fissava ai parametri delle pensioni, in una sentenza della Cassazione del 2011, incontro di un per noi è non una questione di principio, è una questione di giustizia, perché non possiamo accettare che all'invalido, al 70%, gli venga utilizzato il reddito individuale. All'invalido totale, il reddito coniugevole. Da dove nasce questa diversa tipologia di ragionamento? Da una distrazione del legislatore dell'epoca, che andando a interpretare la norma, si è dimenticato di aggiungere a sordomutici, invalidi parziali, anche invalidi totali. Ora l'appuntamento è per lunedì mattina, quando i sindacati incontreranno rappresentanti dell'Inps e del Ministero del Welfare. L'obiettivo è ottenere la revoca di questa disposizione, altrimenti le parti sociali sono pronti alla battaglia legale. Nuovo calo dei prezzi delle case. Nel terzo trimestre 2012 la contrazione è dell'1,1% in termini congiunturali e del 3,2% su base annua. Si tratta del terzo calo tendenziale consecutivo. Intanto il Tesoro ha venduto tutti i 3,5 miliardi di BTP a tre anni, riuscendo a spuntare un deciso calo dei tassi, che tornano ai minimi da marzo 2010. Il rendimento medio è sceso all'1,85%. E a proposito della casa, parliamo oggi di mutui. Questo perché quelli italiani sono fra i più alti d'Europa, come ci spiega Giorgio Schiavoni. Sentiamo. Ottenere un prestito per l'acquisto di una casa in Italia è più costoso che nel resto d'Europa. Secondo uno studio del quotidiano economico Il Sole 24 Ore, infatti, le nostre banche applicano dei tassi di interesse sui mutui inspiegabilmente alti se rapportati a quelli degli altri paesi dell'Unione. Prendiamo il caso di un mutuo da 100.000 euro a 20 anni. Se il tasso è variabile, la forma più diffusa di mutuo da noi, in Italia si paga il 10% in più rispetto alla Spagna, cheppure ha un mercato immobiliare in gravissima crisi e molte banche sull'urdo della bancarotta. Se invece il paragone lo facciamo per la stessa cifra e durata ma su un mutuo a tasso fisso, più sicuro ma di solito più caro e quindi scelto solo da una famiglia italiana su quattro, lo studio fa emergere delle cifre ancora più inquietanti. Sia rispetto alla Francia che alla Germania, noi paghiamo il 20% in più. Non c'è da stupirsi poi se i mutui elargiti nel secondo trimestre in Italia sono il 47% in meno di quelli dello stesso periodo del 2011. E il calo delle compravendite immobiliari e dei valori delle case sono le ulteriori inevitabili conseguenze di questa anomalia bancaria tutta italiana. Ed è arrivato il momento di girare il mondo per vedere insieme cos'altro è accaduto. Pakistan almeno 113 morti e 230 feriti negli ultimi attacchi in due diverse zone del paese. Il bilancio più grave è Akhetta nel sud ovest con 81 persone uccise da un kamikaze e da un'autobomba situata davanti ad una sala giochi. Un'altra esplosione vicino a un checkpoint delle forze paramilitarie ha provocato invece 11 morti e nel nord ovest 21 persone sono rimaste vittime di un'esplosione in un centro islamico. Venezuela proseguono senza sosta le ricerche dell'aereo scomparso con a bordo Vittorio Missoni ed altri tre italiani. Il ministro degli esteri Giulio Terzi ha dichiarato che è stato inviato dall'Italia un gruppo di esperti nel coordinamento di questo tipo di operazioni. Ci sono contatti continui con le autorità venezuelane, ha aggiunto Terzi, con un notevole impiego di uomini e mezzi che continueranno fino ad indicazioni precise. Cina sono 42 finora ai morti accertati per una frana verificatasi nel villaggio di Gaopo nella provincia sud-occidentale dello Yunnan. Centinaia di migliaia di metri cubi di detriti hanno sepolto 16 case e i loro abitanti. Dalle macerie sono state estratte vive due persone mentre altre due risultano ancora disperse. Vaticano ricevuti in udienza da Benedetto XVI per il tradizionale scambio di auguri gli amministratori locali del Lazio, il presidente della regione Renata Polverini ed il sindaco di Roma Gianni Alemanno, assente all'incontro del presidente della provincia Nicola Zingaretti poiché il suo mandato è terminato ufficialmente lo scorso 28 dicembre. Continua, continua il nostro viaggio nell'isola di Haiti. Maurizio Dischino con le immagini di Carlo Petruziello ci fa vivere anche questa sera la voglia degli abitanti di tornare tre anni dopo il sisma alla normalità. Sentiamo. Di macerie per le strade non se ne vedono quasi più, ma ad Haiti a tre anni dal terremoto del 12 gennaio 2010 che ha colpito il sud dell'isola caraibica provocando 240.000 morti non si vede neanche la ripresa. Grandi cantieri non ne sono stati aperti. I paesi che avevano promesso quasi 10 miliardi di dollari per la ricostruzione di Haiti dopo aver dato la metà dei soldi per l'emergenza hanno chiuso i rubiniti dei fondi denunciando corruzione a tutti i livelli. A rimuovere le macerie del palazzo presidenziale, il simbolo del terremoto, nell'autunno scorso ci ha pensato l'Aiti Relief Organization, l'associazione fondata dall'attore Sean Penn. È stato anche smantellato il campo sfollati dall'antistante Chamdemars per restituire decoro al centro della capitale, ma bastano pochi passi e l'impatto con la miseria è immediato. Per l'arcivescovo di Porto Prenz e Ghir Polar, il paese era debole ed è diventato ancora più debole dopo il terremoto. Timidi segnali di ricostruzione sono visibili nel centro della capitale Porto Prenz, come avete potuto vedere da queste immagini, ma ci sono ben 360.000 persone che ancora vivono in circa 500 campi per sfollati allestiti alla periferia di Porto Prenz. A Baffontain, quartiere di Site Soleil, in un campo di sfollati, la miseria umana è scioccante. Una giovane si avvicina e dice che è disposta a vendere il suo bimbo. Più avanti, nel village de Rappatrie, le testimonianze di chi ci vive riconciliano con la vita. Due perai e due insegnanti parlano con passione del futuro della scuola dei salesiani in costruzione. Una scuola che sentono loro perché abitano a Baffontain e lavorano nel cantiere. Chi nella costruzione, chi dietro una cattedra improvvisata. Le lezioni infatti al momento si svolgono sotto una tettoia, mentre gli occhi sono puntati sul cantiere avviato dall'organismo salesiano VIS con 500.000 euro donati dalla Caritas Italiana. Sono fondi della colletta di 25 milioni di euro raccolti tre anni fa in Italia per l'emergenza di Haiti. Finora con 17 milioni di euro sono stati sostenuti 125 progetti, tra cui quello della scuola che migliorerà la qualità della formazione scolastica a Baffontain. Tutti in coda per presentare i simboli, la giornata politica come fulcro, il viminale e le polemiche per le liste. Civetta guardando ancora allo scontro TV Berlusconi-Santoro. Ma ci spiega tutto Augusto Cantelmi. Forte dell'espluat servizio pubblico, Silvio Berlusconi torna ad attaccare il governo tecnico, il premier dimissionario Mario Monti. Contro il professore arrivano anche le bordate del candidato del centro-sinistra Bersani, il quale si chiede se i conti dello Stato siano davvero così in ordine o se al contrario il governo tecnico non abbia nascosto un po' di polvere sotto il tappeto. Un indubbio colpo basso contro Monti in risposta soprattutto al mancato appoggio in Lombardia al candidato del centro-sinistra Ambrosoli. Da Niki Vendola invece arriva a sorpresa una prima apertura. al professore non può entrare nel futuro governo, sottolinea, ma lo può comunque sostenere. Ma quella di oggi è stata soprattutto la giornata della presentazione dei simboli al Viminale e come sempre accade spazio a bagarre polemiche per le cosiddette liste civetta e liste clonate. Tra i simboli registrati si trovano anche due liste Monti, ma una non si riferisce a Mario, bensì ad un certo Samuele. Stesso discorso anche per una lista 5 stelle copiata a quella originale di Beppe Grillo. Quinta notte di proteste, quella prossima, ormai prossima per gli operai che da lunedì sera occupano la miniera di Serbario presso Carbone. Siamo naturalmente in Sardegna. Lo fanno a rischio della loro stessa incolumità. Sentiamo Paolo Fucili. Sospesi sul vuoto in cima ad una torre metallica o accampati sottoterra in una galleria dove non è escluso il rischio di rovinose frane. Da lunedì notte a Carboni a Sardegna, nella miniera di Serbario, così protestano i lavoratori rimasti esclusi finora dagli accordi siglati tra sindacati, istituzioni ed Alcoa, colosso internazionale dell'alluminio che ha appena chiuso lo stabilimento di Porto Vesme. I 500 dipendenti Alcoa hanno strappato due anni di cassa integrazione. L'avvertenza rimane invece drammaticamente aperta per gli operai dell'indotto, di aziende, vale a dire, che lavoravano in appalto con Alcoa. È questione di sopravvivenza per centinaia di famiglie del Sulcis, territorio dal tessuto economico quasi agonizzante sotto i colpi della crisi. Una prima risposta è attesa in serata da Cagliari, dalla riunione convocata in regione dal governatore Cappellacci con anche tre operai. Speriamo che ci sia una presa di posizione forte, univoca, da parte della politica regionale, dalle istituzioni, dalle organizzazioni sindacali per andare a Roma a sancire finalmente quell'accordo quadro che metterà in sicurezza i lavoratori. Vogliamo impegni precisi, nero su bianco, avvertono da Carbonia. Noi da qui non usciremo mai, fino a quando non avremo un risultato. Il presidente della CEI, il cardinale Angelo Bagnasco, è in terra santa per il pellegrinaggio con i giovani sacerdoti della sua Arcidiocesi di Genova. Venire qui spiega Bagnasco, è dono e grazie. Siamo venuti qui per vedere e capire che cosa è avvenuto in questo luogo, come fecero Pietro e Giovanni. Davanti all'edicola che custodisce il luogo della Ressurrezione, il cardinale Angelo Bagnasco presiede la Messa Solenne. L'arcivescovo di Genova ha accompagnato in un pellegrinaggio in terra santa che terminerà domani un gruppo di giovani sacerdoti della sua diocesi. È un momento di grande commozione, ma che certamente ci porta e ci ha donato la grazia di un rinnovamento della fede e della gioia cristiana. Nell'anno della fede non potevamo mancare a questo ritorno all'origine, al grembo della vita cristiana. Da Gerusalemme il presidente della CEI incoraggia tutti a sperimentare la grazia particolare di questi luoghi in questo anno della fede. Se è possibile venire in terra santa, proprio per attingere da questi luoghi la grazia che è legata esclusivamente a questo posto. e anche per incoraggiare con la propria presenza la presenza dei cristiani qui in terra santa, ma anche per imparare da loro che cosa significa la fedeltà ai luoghi santi, alla vita cristiana, una testimonianza di gioia, la gioia appunto della fede. Quindi è un donare ed è un ricevere molto. Si spenta oggi a Roma dopo una lunga malattia Mariangela Melato, l'attrice Mariangela Melato. Allora ascoltiamo il ricordo di Cesare Cavoni che ha intervistato chi l'ha seguita fino all'ultimo respiro. Sentiamo. All'alba, nell'ospice romano Antea, la signora del teatro italiano, come veniva definita, ci ha lasciati. Impossibile sintetizzare la sua folgorante carriera tra teatro, cinema e televisione, dal debutto con Pupiavati al successo di pubblico con Manfredi, in per grazia ricevuta. Senza dimenticare l'amato teatro tra Ronconi, Pirandello, Shakespeare. Mariangela Melato, una grandissima artista, una vera artista, non diva come si suole dire, è deceduta questa mattina verso le ore 5 e la signora è stata assistita presso il nostro centro di cure palliative Antea da circa 20 giorni. È stata lucidissima fino a ieri, poi da ieri purtroppo c'è stato il crollo, però dobbiamo dire che siamo riusciti dal nostro intento perché la signora si è addormentata in maniera serena. Eppure il palcoscenico e il suo pubblico la stavano aspettando. Era già pronto infatti uno spettacolo che avrebbe dovuto debuttare a giorni. Ironia della sorte, si trattava dell'adattamento del romanzo Il Dolore, della scrittrice francese Marguerite Durat, ma il male se l'è portata via troppo in anticipo. La consolazione è che, proprio grazie all'eccellenza delle cure palliative a cui era sottoposta, il dolore non ha potuto infierire, permettendole di morire serenamente, senza soffrire. Le cure palliative non sono altro che la modalità per abbracciare le persone, aiutarle nel momento più difficile della loro vita a non soffrire. Quindi si offre sia l'assistenza medica che infermieristica, sia l'assistenza spirituale che psicologica, ma insomma in fondo il nostro intento è quello di riconsiderare non più il paziente, ma il paziente come persona. Quindi abbracciarlo sotto tutti i suoi aspetti, sotto tutte le sue difficoltà e cercare di rispondere a tutti i bisogni che lui presenta. Quindi l'esatto contrario dell'eutanasia? Assolutamente sì. Ed è arrivato il momento di romanzo familiare. Arianna, a te passiamo la linea.